E con l'organizzazione, con Andrea D'Agostino, tracciamo un po' il bilancio di quello che è questo torneo che ormai è giunto alle fasi principali, le fasi calde. Beh sì, chiaramente con stasera si chiude la fase a gironi, la terza giornata. È andato bene, grazie a Dio anche il tempo ha tenuto perfettamente, tranne forse un po' oggi. E questo ci ha permesso di non avere problemi organizzativi, ci sono stati pochi spostamenti, c'è stata grande partecipazione di pubblico, ci sono stati scontri interessanti che hanno suscitato un grande apprezzamento da parte sia degli addetti ai lavori che dei non. E adesso con stasera, con l'ultima partita che sta per iniziare, avremo i nomi delle otto squadre che passano i quarti di finale, che saranno il giorno 6, lunedì, poi mercoledì avremo le semifinali e chiuderemo sabato prossimo con le finali giorno 11. Per cui stiamo preparando anche una certa organizzazione. Un finale che sarà tra l'altro trasmessa anche in diretta da parte nostra, è un finale che comprenderà, puoi già dire qualcosa, insomma come si snoderà? Beh, sì, gli orari precisi sono ancora in via di definizione, comunque l'idea è di occupare buona parte del pomeriggio, partiremo subito con la finalina famosa, terzo o quarto posto, e poi ci sarà una bella pausa in cui tengo a dire giocheranno anche i nostri primi calci, stiamo preparando qualcosa con l'allenatore, insomma importante come dicevo quando abbiamo introdotto questo evento, dare attenzione ai giovani, non solo ai giovanissimi che fanno le partite, ma anche ai più piccolini e questo è veramente un motivo d'orgoglio della società. Poi avremo probabilmente un po' di musica live, sia dal punto di vista DJ, anche un mio amico di Pieve di Soligo che mi ha promesso un piccolo intervento. Poi avremo chiaramente la finalissima con premiazioni annesse e stiamo organizzando uno spiedo per chi volesse fermarsi in collaborazione con la Proloco di Follina presso la località La Marcita. 11 giugno, quindi finale, venite a Follina, trovate di tutto, sport, divertimento e anche buon mangiare. Beh sì, mi auguro che la partecipazione sarà quella che abbiamo avuto fino adesso, sono sicuro che un motivo forse in più è che, come sottolineavi tu, oltre alle partite che saranno assolutamente intriganti, ci sarà anche l'ambito extracalcistico che completerà e coronerà la nostra giornata.